Ciao, bentornati sul canale di Mr. Gadget, oggi una recensione di lungo periodo, quella di Honor Magic 4 Pro. Bentornati dunque su Mr. Gadget.tech, come al solito abbiamo un accorato appello per voi. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e mettete un mi piace a questo video. Video che viene catturato in contemporanea anche dalla fotocamera principale, anzi in questo caso videocamera principale di Honor Magic 4 Pro con il suo sensore principale da 50 megapixel. A proposito di scheda tecnica, diamo un occhio ai dettagli con il display LTPO OLED da 6,81 pollici, 120 Hz di refresh rate, HDR10+, un picco di luminosità di 1000 nits, schermi curvi, un rapporto tra superficie e dimensione del display del 93% veramente molto molto accattivante. Dentro questo prodotto è il processore Snapdragon 8 Generation 1 con un processo a 4 nanometri, 8 o 12 GB di RAM, 256 o 512 GB di memoria interna. Non solo, perché questo dispositivo si distingue anche per la sua batteria a 4600 mAh e con il dettaglio di avere la ricarica sia cablata che wireless addirittura da 100 Watt. Continuo a farmi riprendere dunque dalla fotocamera principale di Honor Magic 4 Pro per raccontarvi un po' i tanti mesi di utilizzo. Questo è un dispositivo lanciato addirittura a febbraio per il mercato cinese, arrivato nel mercato europeo solo la scorsa estate, quindi abbiamo passato davvero tanti mesi con questo prodotto e devo dire che si è comportato davvero bene. Partiamo proprio dalla fotocamera, abbiamo detto tre sensori, 50 megapixel per quello principale, 50 megapixel per il grand'angolo, 64 megapixel per lo zoom periscopico. Diamo un occhio a come si comporta la selfie cam. Anche questo video è catturato con Honor Magic 4 Pro con la sua camera frontale in modalità ripresa 4K. Abbiamo fatto poi un downgrade del video per il montaggio, potete vedere anche la gestione soprattutto dei contrasti. L'audio è quello originale, abbiamo scelto di utilizzare direttamente il microfono di Honor Magic 4 Pro per avere anche un test della qualità di cattura. Camera frontale che può arrivare come detto fino a una definizione di 4K con un taglio di 16 noni, ma a 1080 pixel può arrivare anche a 21 noni. Avete sentito dunque un audio anche molto carino, molto ben curato perché riesce ad isolare bene il rumore esterno. Noi come detto in questo momento stiamo usando invece il sensore principale che ha una caratteristica. Quando si catturano i video è possibile, grazie all'intelligenza artificiale, produrre dei video istantanei, brevi, da condividere sui social. Diciamo subito che il comparto video è quello con il maggior margine di crescita. I video sono buoni ma forse non eccellenti. Ottima invece la fotocamera che si comporta davvero molto molto bene in tutti i contesti. Abbiamo fatto un po' di test mettendo soprattutto a confronto i diversi sensori. Vedrete come l'equilibrio soprattutto nella cattura dei colori tra i diversi sensori è sicuramente molto buona. Tornando per un secondo ai video, bisogna sottolineare la modalità cinema che permette di riprendere anche a 21 noni con degli schemi colore molto accattivanti che permettono anche di esprimersi dal punto di vista proprio della creatività in modo molto 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 divertente. Comparto fotografico quindi di ottimo livello ma quello che ci è piaciuto particolarmente è il fatto che questo smartphone abbia un software che sembra un carro armato. Veramente potente, ben definito, stabile ovviamente con i servizi di Google e con un'interfaccia che richiama sicuramente l'esperienza d'uso di Huawei da cui discende la nuova Honor. Da sottolineare anche la qualità del display. Veramente eccellente in tutti i contesti, la luminosità con il picco da mille nits ci dice insomma che in qualunque condizione si legge davvero alla grande. E quello che ci è piaciuto forse più di tutto in questo telefono è che la batteria sembra non finire mai. Davvero una gestione dei consumi tra le migliori del mercato. Insomma è passato quasi un anno dal lancio di Honor Magic 4 Pro. Il prezzo nel frattempo è sceso sensibilmente quindi oggi questo smartphone si compra ad un prezzo veramente molto molto competitivo. Se state scegliendo il vostro nuovo smartphone e volete un top di gamma beh io direi tenete d'occhio anche questo prodotto perché ancora a distanza di tempo ha veramente molto da dire ai suoi utenti. Come detto margini di miglioramento ce ne sono in particolare per quanto riguarda il comparto dei video ma nel complesso il suo rapporto tra qualità e prezzo è veramente eccellente. Ci troviamo prestissimo su MrGadget.tech per un'altra recensione di lungo periodo e anche il nostro prossimo cliente sarà molto interessante. A presto da MrGadget. Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti!